Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Manu e bentornati in questo nuovo video, oggi siamo in compagnia di Tommy Ciao ragazzi Come avrei detto dal titolo, oggi vi spiego come ottenere skin Wonder, Honor e Iconic Come vedete io raga ho già l'Iconic con il balletto, easy, easy Tommy Lo vorresti Tommy? Eeeh, tralalalalala Intanto che vi spiegherò come funziona il contest raga, andiamo in creativa e grappiamo un po' Tommy Ok come on raga, come on raga, nella mia isola per i1, i1, ci sta pure il combat raga, lasciate like se vi manca il combat Comunque raga, prima di partire con il video vi devo dire tante cose perché raga è tanto che non faccio un video su Youtube Quindi prima di tutto raga ringrazio Capax e Carletto che hanno fatto l'abbonamento da 25 quindi grandi raga, siete mitici, mitici E poi raga abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti un po' di tempo fa, vi ringrazio tutti quanti per il supporto che mi avete dato quest'estate Eeeh, vorrei fare uno speciale per questi 10.000 iscritti perciò lasciatemi un sacco di domande qui sotto nei commenti Io proverò a fare un video dove vi rispondo a tutti magari tutte le vostre curiosità Tommi intanto sclera raga Non capisco niente ok No pets Oh Ma guarda che ci muoro Muoro Ai 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 Sono caduto Ma raga comunque a questo punto raga io direi di parlare del contest visto che tutti quanti voi siete entrati qui per vedere il video riguardante il contest Come ottenere Wonder, Honor e Iconic ve lo spiego subito A differenza degli scorsi contest raga questo sarà leggermente diverso appunto perché questo contest non finirà a fine mese ma durerà molto di più quindi terminerà il primo gennaio Gli altri contest invece iniziavano il primo del mese e finivano l'ultimo giorno del mese e vinceva che arrivava a 1000 points Invece questo è leggermente diverso ci sarà una classifica una classifica che si aggiornerà ogni live Praticamente ci sarà una top 10 e in questa top 10 ci saranno i vincitori Quindi i primi 10 che avranno più points guardando le mie live perché raga i points si fanno semplicemente guardando la live Otterranno la skin Il primo vincerà una skin Wonder Il secondo, il terzo e il quarto vinceranno una Honor E i restanti vinceranno una Iconic Oh merda Poi ovviamente se ti vuoi ad esempio uno ha già la Honor e preferisce avere una Iconic ci possiamo organizzare No non ci credo Beh ragazzi insomma molti di voi adesso ci staranno chiedendo Come si partecipa al contest Easy raga bassa descrizione la campanella inattiva Codice creatore grid nerd E seguirmi su Instagram Trovate l'Instagram in descrizione E tu da dove sei arrivato? Easy clap bro Come ho già detto i points si fanno oddio semplicemente guardando la live Più tempo di live guarderete più points otterrete Io sarò in live quasi tutti i giorni Quasi tutti i giorni raga Alle 20 e 30 cioè dopo cena Quando uno magari finisce gli allenamenti Finisce di mangiare Finisce di studiare Magari un'oretta può passare in live raga Penso tutti quanti Mi raccomando raga condividete questo video con più gente possibile con tutti i vostri amici Dite che comunque regalo queste skin a tutti a semplicemente guardando una live Perché alla fine raga questo è un contest che non è a fortuna raga Che il contest può subire delle variazioni a seconda di quanta gente partecipa Se siamo in tanti raga se siamo in tanti ovviamente magari metterò più skin in palio Invece di 10 persone diventeranno 15 raga E per fare i points più tempo di live guarderete più points otterrete E io ogni tanto farò qualche sfida Tipo ad esempio Chi vince due server di fila Se farò server privati otterrà questi points Vediamo a 150 aspetto Vedi a 50 coins Esatto regà queste sfide così Quindi venite tutti quanti in live Quasi tutti i giorni dopo cena Soprattutto il venerdì e il sabato e la domenica Ci proverò a farle Visto che sono i giorni con più utenza in live E niente raga mi raccomando Sarò anche in live su Twitch ogni tanto Magari una live a settimana ve la porterò Trovate anche il link in descrizione Per partecipare iscrizione Campanella inattiva Con tutte le notifiche Codice creatore Crewdenerd raga Che è questo qua nello shop Che qui ho scritto nessuno Non mi supporto Non mi supporto da solo Mi raccomando raga Lasciate un sacco di domande sotto questo video Per lo speciale di 10.000 iscritti Raga vi ringrazierò sempre per questo traguardo Mi raccomando Spolliciate Condividete E ci vediamo al prossimo video raga Grazie a tutti